Dal 13 febbraio per tutti i giovedì del mese l'atelier di Alexandra Bacchetta al Bruletto di Via Veratti ospiterà tre incontri dedicati all'arte, alla scultura e a una nuova leggenda per Varese. Suggestioni d'artista, questo è il titolo del nuovo ciclo di incontri, parte quindi con un'idea e una proposta proprio per la città Giardino. Tutto il mese di febbraio sarà dedicato alla leggenda del braccialetto di Bosso, che è una leggenda che abbiamo inventato in riferimento ad una scultura che ho fatto due anni fa, che si intitola La Promessa. La leggenda prende spunto dal mito di Artemide e Atteone. Fin da piccola mi ha sempre lasciato un po' un sapore di incompiuto questa storia, dicevo ma com'è possibile che una dea non abbia potuto accorgersi che quest'uomo magari l'amava veramente e che non è stato un gesto da guardone, ma semplicemente era l'amore che lo aveva quasi costretto a mantenere lo sguardo fisso su di lei. Per cui siamo partiti da questo mito per rimaneggiarlo un pochino verso la fine, perché con l'abilità del mio compagno che è Mario Visco, che sta scrivendo appunto il romanzo e che ha già ultimato una versione per bambini, li abbiamo fatti innamorare dai monti della Beozia, siamo poi arrivati alla Borgogna, perché naturalmente lì queste divinità, secondo la leggenda, non potevano stare perché erano troppo a rischio, si dovevano nascondere nei folti e fitti boschi della Borgogna, fin tanto che una fanciulla non scopre questo mezzo cervo, mezzo uomo e se ne innamora. E in questo innamorarsi, contraccambiato, si sviluppano tutta una serie di situazioni molto particolari che portano proprio a capire quanto l'amore possa rendere divino un uomo. Dalla leggenda alla storia e attraverso le vicende d'amore si arriva proprio alla città di Varese. C'è un forte legame con Francesco III d'Este, noi ci siamo immaginati che la mamma di Francesco gli raccontasse questa storia. Si parte proprio da Francesco d'Este che racconta questa leggenda e che fa da Trenuignon fino alla fine, quando poi a 78 anni si spense nel suo letto di Varese, proprio ai Giardini Estensi. Ma si narra, avesse ancora voglia di sentire questa leggenda e di tenersi stretto il braccialetto di bosso che la sua mamma gli aveva intrecciato proprio con i bossi del Giardini Estensi.